Quanto la fitti? Ma anche un altro cento. Ma io ora questo rotaviglione, se mi ha chiesto nulla ci farò la lavorazione di ora. Poi vedete che... Sai che ho sognato? Sto sentendo un filmino, lo mandai a Nalu. Ho sognato anche che si apriva un'attività. Io nei miei film, quando sogno, c'ho un sacco di soldi e non so come uscire in Italia.